buongiorno amici e ben tornati sul mio canale per mentum oggi prepareremo insieme le zeppole di san giuseppe è una ricetta semplice che però richiede molta attenzione in tutti i passaggi con questo impasto potremmo preparare anche bignè eclair loulou oltre ovviamente alle zeppole non dimenticate di lasciare un like o un commento e di iscrivervi al canale tramite il pulsante qui in basso adesso andiamo ad impastare versiamo l'acqua in una pentola aggiungiamo il burro aggiungiamo lo zucchero e il sale mettiamo sul fuoco e portiamo ad ebollizione togliamo dal fuoco aggiungiamo tutta la farina amalgamiamo velocemente con un cucchiere di legno con una spatola riportiamo sul fuoco qualche secondo fino a quando il composto non sarà abbastanza sodo lasciamo intiepidire e aggiungiamo le uova una per volta aggiungiamo un altro uovo solo quando il precedente sarà completamente assorbito una volta incorporate tutte le uova l'impasto risulterà semi lucido e con la giusta consistenza prelevandone una parte dovrà rimanere aggrappato al cucchiaio mettiamo l'impasto in un sac a poche con una bocchetta abbastanza larga e formiamo le nostre zeppole preriscaldiamo il forno a 200 gradi cuociamo per 15 minuti poi abbassiamo il forno a 180 gradi e cuociamo per altri 20 minuti circa sforniamo e lasciamoli raffreddare apriamole completamente in modo tale che possano accogliere più crema possibile noi siamo molto volosi guardate che spettacolo completamente vuote riempiamoli di crema io ho preparato una crema scantillie all'italiana ma potete prepararli con la crema che più vi piace grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti cospargiamo bene di zucchero a velo ultimo ciuffo di crema sulle nostre zeppole ed infine le marene abbiamo visto quanto sia semplice preparare questa ricetta se si rispettano nel dettaglio tutti i passaggi mi raccomando utilizzate farina debole quindi una farina che abbia massimo un V di 150 o comunque un 10 per cento massimo di proteine una farina molto forte crea molto glutine e quindi crea un impasto molto tenace che comunque poi si sentirà in bocca non sarà scioglievole quindi sarà sicuramente meno piacevole da mangiare è importante inserire le uova una per volta quindi inserire il successivo solo quando il precedente sarà stato completamente assorbito dall'impasto alla fine quando avremo inserito tutte le uova avremo un impasto semi lucido e di una consistenza tale che una volta alzato una parte di impasto con un cucchiaio rimarrà comunque grappata al cucchiaio e formerà quasi un triangolo sul cucchiaio stesso importantissimo infine sarà la cottura dovremo dare uno shock termico all'inizio quindi partiremo con 200 gradi quindi con un forno ben caldo 200 gradi li faremo quindi esplodere l'impasto per poi abbassare la temperatura 180 gradi e quindi finire la cottura asciugando bene poi all'interno l'impasto la farcitura ovviamente a vostra discrezione io ho preparato una crema chantilly ma potrete preparare anche una normalissima crema pasticcera normale per questo video è tutto lasciate un like un commento e se volete rimanere aggiornati per le prossime ricette iscrivetevi al canale come ci vediamo alla prossima ricetta come ci vediamo alla prossima ricetta